Il primo arriva nella loggia Il primo arriva nella loggia Il primo arriva nella loggia Questo è il principio del mercato Unico santo idolatrato Credo nel meritus e nel curriculum Credo nell'habitus che indossa il monacus Credo nel meritus Credo nell'habitus Ed è il curriculum che fa un uomo monacus Il primo arriva nella loggia 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 Inserisca username e password Inserisca le prime tre cifre del suo codice segreto di smarrimento Codice Errato Inserisca il suo codice di avviamento postale Le ultime due cifre del suo codice fiscale E la data di nascita di suo nonno da cele Nel caso in cui avesse smarrito il codice segreto di smarrimento La preghiamo di contattare il nostro servizio www.smarrireilcodicedismarrimento.smarr Se invece è in possesso del suo codice segreto di smarrimento Lo inserisca entro 30 Secondi Operazione Effettuata Con successo Inserisca il numero seriale che trova nell'indirizzo mail segreto Inviatole al momento della registrazione segreta del suo codice segreto di smarrimento Login Effettuato Con successo Benvenuto Nel servizio Informazioni Per conoscere il suo bonus informazioni Annuisca tre volte davanti alla sua webcam Per tutte le altre informazioni Scandisca Altre Operazioni Benvenuto nella sezione Altre Operazioni Per qualunque informazione Cliccate in alto a destra nella sezione Qualunque Altra Informazione Per sapere a chi inviare una mail E conoscere l'indirizzo mail di chi potrà darvi l'informazione richiesta Inviate una mail a Info Chiocciola A chi devo inviare la mail Punto a chi Per conoscere il numero verde attraverso il quale parlare con un nostro operatore Inviate una mail a Info Chiocciola A chi devo telefonare Punto A chi devo Salve Vorrei conoscere l'indirizzo mail dell'ufficio A cui devo chiedere l'indirizzo mail al quale spedire il mio reclamo Gentile cliente Grazie Per aver utilizzato il nostro servizio Per i reclami dovrà accedere all'area riservata del sito www.sportellomicoperireclami.sport Specificando al momento della registrazione Reclamo Il servizio le indicherà la procedura per l'accesso all'area riservata del nostro sito www.areariservata.sb Registrazione Effettuata Con successo Tra pochi istanti riceverà una mail di conferma della sua registrazione Gentile cliente Questa mail è generata automaticamente dal nostro servizio www.comeoffetturareunreclamo.recl La preghiamo dunque di non rispondere ma di seguire le istruzioni fornite con la presente mail Stampi questa mail nella quale troverà alcuni numeri affiancati di puntini sparsi sul foglio Unisca i numeri in modo progressivo Comparirà l'immagine virtuale per accedere alla sezione Desidero Accedere alla sezione Punto Desidero Disponga la sua immagine virtuale davanti alla webcam Facendo attenzione al parallasse terrestre e allo spostamento del polo magnetico Sul desktop Comparirà la scritta Carponi Punto carp Clicchi due volte sulla scritta e si risponga a Carponi davanti al sufficio Facendo attenzione all'uscita visuale della sua webcam Si infili un dito nel culo, un dito nel culo, un dito nel culo Per la taglia di CBS In 윤c graphs Tempo' per stile e immobilità Tutto si espande a grande velocità La terra schizzola, il polo spacciona A tutta vita c'è l'uscita perdita Si esternalizzò anche la consolazione Il bene pubblico si mangia con l'azione La cocaina una volta al giorno Come la vera verde e il medico di torno Per sapere come va Componi il numero 41.700 con la tastiera numerica che trovi sulla fronte del tuo amico Ti ricordiamo che il servizio ha un costo di 50 centesimi al minuto senza scatto alla risposta Per sapere come va oggi Con il tuo dito indice esercita una leggera pressione sullo sterno del tuo amico Facendo attenzione a non premere il tasto riavvio Per conferma digita il tasto 1 seguito da cancelletto Per sapere come andava ieri Clicca sotto la rotola sinistra del tuo amico e digita il tasto 2 seguito da cancelletto Diesis minore Per ogni altra informazione avvicinita ad un orecchio del tuo amico a scelta E scandisce ad alta voce Ogni altra informazione Ogni altra informazione Un nostro operatore ti risponderà non appena possibile Siamo spiacenti ma il tasto selezionato non è associato ad alcuna funzione La preghiamo di riprovare più tardi La preghiamo di riprovare più tardi La preghiamo di riprovare più tardi Cerchi qualcosa di superiore? Un'entità Che ti protegga dal male alla quale rivolgerti in caso di malattia o difficoltà Vuoi un aiuto o una protezione esterna? www.luicee.com Noi l'abbiamo trovato Slash per primi punto e tu no Non sei credente? E ti ispiri ad una visione laica della vita? Visita il sito www.likevision.like Sei un relativista E credi che tutte le culture abbiano pari dignità E che nessuno detenga alcuna verità Ma a causa di questa tua ammirevole apertura Ti senti alquanto confuso? Scrivi una mail a info Chiocciola Sentirsi confuso punto fuso Da più di una settimana aiuti il tuo prossimo Controlla il tuo saldo punti Senti di essere un peccatore, una peccatrice Recupera i tuoi punti inviandoci una mail a Tipenti Chiocciola Simipento Punto pen Sei riuscito a mantenere il proposito di non masturbarti per 12 giorni? Invia una mail a Resistere Chiocciola Resistere Punto Tra i partecipanti verrà estratto un kit per la falegnameria domestica Ho bisogno di un esperto E mi guidi nella vita Ho bisogno di un esperto Che mi guidi anche alla guida Ho bisogno di un esperto Che mi illustri i miei bisogni Che mi dica cosa fare Quando ho in corso un'erezione Ho bisogno di un esperto Per riuscire a vomitare Che mi possa confermare Se sto bene o se sto male Ho bisogno di un esperto Che mi insegna di magrire Ho bisogno di un esperto Che mi faccia digerire In ogni campo c'è un esperto Molto, molto preparato Che ha le chiavi del successo E può farti un duplicato In ogni campo c'è un esperto Molto, molto preparato Gravi, gravi del successo E non fa un duplicato Ho bisogno di un esperto Che mi mandi da un esperto Che mi dica cosa penso Che chiarisca io chi sono Ho bisogno di un esperto Per chiarirmi fuori e dentro Di qualcuno che mi illustri Il mio sessuale orientamento In ogni campo c'è un esperto Molto, molto preparato Che ha le chiavi del successo E può farti un duplicato In ogni campo c'è un esperto Molto, molto preparato Che ha le chiavi del successo E può farti un duplicato Vai, va 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 In ogni campo c'è un esperto Molto, molto preparato Che ha le chiavi del successo E può farti un duplicato In ogni campo c'è un esperto Molto, molto preparato Che ha le chiavi del successo E può farti un duplicato Vai, va 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 Vai, va